Allora, la modalità operativa di queste mafie, aveva accennato appunto l'avvocato, riprendiamo il filo con il nostro contributo, le andrangheta si infiltra appunto nel nord-est, vediamo come e in che termini. Erano in tre, radicati nel territorio padovano, a tenere i contatti con la cosca andranghettista che inviava in Veneto ingenti carichi di sostanze stupefacenti. Tre calabresi trapiantati a Padova e collegati al clan Giglio di Strongoli, già finito al centro dell'operazione Stige della Procura di Catanzaro di pochi giorni fa. Così la mafia calabrese si era infiltrata nel tessuto economico e sociale del Veneto. Tre personaggi, che sono anche tre personaggi principali di questa attività, cioè che sono lo Spadafora, il Giglio e ovviamente il Bartuca, sono stati anche arrestati nell'operazione Stige della DDA di Catanzaro. In quell'operazione il loro compito era, per la DDA di Catanzaro sul Veneto, quello di dare un appoggio logistico all'organizzazione andranghetistica di appartenenza su questo territorio e quello di creare rapporti con le pubbliche amministrazioni per appalti e quello di avere rapporti commerciali con altre aziende. Questo chiaramente si può pensare, ma non lo possiamo dire perché non è stato accertato, che probabilmente avessero fatto queste attività per riciclare i soldi della cosca di riferimento. È qui, in cinque delle sette province della regione, che la droga veniva smerciata e distribuita e i proventi del traffico ripuliti attraverso fatture false con l'aiuto anche di una filiale bancaria. I soldi che vengono attraverso le false fatturazioni riciclate sono quelli prodotti dall'attività dello stesso Bartuga per quelle attività di cui abbiamo parlato prima, per la sostanza stupefacente, nelle varie misure, con composizioni diverse, tutte le persone che sono state arrestate e indagate. Chiaramente in questa attività non abbiamo rilevato la mafiosità, perché la mafiosità è data dal fatto di appartenenza a un'organizzazione che la via di Ria Catanzaro con altre attività avranno evidenziato nella loro inchiesta. Io su questo non posso essere preciso perché non l'ho fatto io l'attività investigativa. Quello sul quale posso essere preciso è che i reati contestati sono associazioni al delinquere, non ti sta un po' mafioso in questo caso, però sono dei reati fini che poi servono sicuramente anche all'associazione mafiosa se vista da un altro punto di vista. L'importante è aver operato in modo corretto e bene perché l'attività è stata complessa e ha visto vari momenti, è durata più anni e ha guardato tutti quanti i settori criminali gestiti da queste persone. Questo ne assumevo quanto diceva il professore nella ricerca, però qua emerge il fatto che, avvocato, non c'è l'elemento mafioso, pur nella complessità. Questo è un tema giuridicamente molto importante. Siccome l'associazione mafiosa è intimidazione e dell'intimidazione deve esserci questo, l'intimidazione consiste in questo metodo mafioso che poi porta all'assoggettamento e all'omertà in un territorio relativo, c'è il problema di capire se queste situazioni sia possibile in territori che sono refrattari a comprendere l'intervento delle associazioni di tipo mafioso. Per la giurisprudenza, faccio soltanto questo brevissimo accenno, nel momento in cui vi è una spora di un'associazione per delinquere di stampo mafioso che ha la sua collocazione territoriale ben definita, ad esempio l'Andranga, la casa madre in Calabria, la spora che si è spostata al nord, nel momento in cui vi è un collegamento con la casa madre, non c'è bisogno che esprima il metodo mafioso perché il metodo mafioso, quindi la capacità di intimidazione, è latente, è potenziale, è possibile per l'associazione esprimerla e portarla a compimento in qualsiasi, diciamo, momento. Quindi c'è questo aspetto della giurisprudenza che cerca di capire di dove sia possibile, di fronte alla colonizzazione da parte delle associazioni di tipo mafioso, contestare ancora l'associazione di stampo mafioso o sull'associazione per delinquere semplice. Dottoressa dove intervenire? Sì, volevo collegarmi a una questione di prima sugli alert, che noi dobbiamo comunque eventualmente segnalare qualora li dovessimo riscontrare. Dovete quindi segnalare? Dobbiamo segnalare, sì. Noi abbiamo l'onere nel momento in cui ne veniamo a conoscenza, dobbiamo segnalarlo. Se non lo facciamo, siamo soggetti purtroppo a sanzioni amministrative, talvolta anche pesanti, perché poi quando queste operazioni che magari noi riscontriamo si ripetono costantemente, chiaramente le sanzioni amministrative aumentano. E talvolta possiamo anche ricadere in sanzioni anche penali, con addirittura anche la reclusione. Adesso fortunatamente non ho conoscenza di casi, però comunque la legge lo prevede, la norma lo prevede. Tornando alla questione degli alert, e mi ricollego anche a quanto diceva il professor Perbonetti riguardo a tutta quell'attività di riciclaggio, cioè di pulizia di questo denaro che ha provenienza illecita, che queste società, queste attività imprenditoriali mettono in piedi tutta una serie di operazioni che vanno dall'acquisto delle quote, successive cessioni, acquisti di terreni, oppure l'imprenditore che sposta. Quindi questo denaro viene spostato e viene utilizzato per mettere in piedi tutta una serie di operazioni in modo tale da far ripulire questo denaro. Quindi queste sono tutte attività lecite che messe una magari a fianco all'altra, analizzate nel profondo, poi si viene a scoprire che si tratta di riciclaggio. E' chiaro che per noi non sono attività semplici che saltano all'occhio così immediatamente. C'è un po' di difficoltà. Perché certamente, perché magari sono attività che si susseguono nel tempo, però non è impossibile certamente farlo. Un altro elemento importantissimo, perché mi è capitato un caso, riguarda proprio l'identificazione. quando ci sono delle transazioni bancarie, molto importante è l'identificazione del destinatario, che può essere del bonifico o della disposizione bancaria. Perché questo? Perché qualche anno fa mi è capitato, è capitato ad un cliente, e ad un mio cliente, di aver riscontrato, e questo è successo così, facendo banalmente la contabilità, di aver riscontrato tra i movimenti bancari un'operazione, adesso non ricordo, era un bonifico di 6-7 mila euro, quindi non era una cifra comunque importantissima, cioè di grande valore. E c'era questa disposizione sul conto corrente, e non si sapeva quale fattura poteva essere, chi era il fornitore destinatario di questo pagamento. Il cliente infatti non aveva conoscenza di questo, diceva, ma io non ho fatto nessun bonifico. Quindi ha contattato la sua banca, il suo direttore di banca, il quale gli dice, ma guarda abbiamo fatto questa disposizione, perché ci hai mandato un'email? Ma, e quindi qui dice, guarda che io non ho inviato nessuna email. Il direttore ha cercato l'email, perché non era passato molto tempo, e sostanzialmente un hacker non ben identificato è entrato nell'email dell'imprenditore e ha creato questa fasulla email, questa mail fasulla, alla banca con la quale operava. Quindi vuol dire che aveva anche visto tra i contatti che questo imprenditore lavorava con questa banca. Ha mandato questa email con questa disposizione di pagamento con un IBAN. Il direttore poi è andato a fondo e questo IBAN era un IBAN comunque che non era riconducibile a nessun soggetto. Non si è capito bene la banca poi come, che cosa ha fatto, ma ha restituito i denari e poi successivamente comunque ha seguito dell'evoluzione anche normativa, perché questo è un fatto accaduto, se non ricordo male, 4, 5, 6 anni fa, quindi non proprio recentemente. Ha seguito dell'evoluzione normativa, quando ci sono anche le banche, mi risulta che quando devono fare una disposizione, la devono fare con, cioè andando ad identificare quello che è il destinatario del bonifico. Comunque ci sono ad ogni modo sempre delle, qualcosa che sfugge, vedi la questione che citavamo prima, dei pagamenti in questa moneta criptata, quale bitcoin, ma ce ne sono comunque anche delle altre che sfuggono chiaramente. Però il commercialista, lo studio dei commercialisti che ha in carico l'azienda, che quindi tutti gli spostamenti, perché l'imprenditore magari dà in delega la valutazione di tutte le posizioni, hanno una responsabilità in questo senso oppure no? Certo, hanno una responsabilità per valutare, di controllare, di stare attenti. Sì, il nostro ruolo comunque è un ruolo di collaboratori con la giustizia, questo senza ombra di dubbio, dobbiamo sia segnalare quando ci sono, quando riteniamo che ci siano delle operazioni sospette, fondate chiaramente, perché poi comunque nel rischio, ecco, di non incorrere in qualche sanzione non possiamo in ogni caso fare segnalazioni a vota, no, no, ci deve essere un fondamento, però comunque... Ci deve essere un fondamento, anche perché, ecco, ricordiamo che le segnalazioni delle operazioni sospette, le SOS, sono effettuate in totale anonimato, adesso avvengono addirittura non più con, come accadeva fino a poco tempo fa, con una raccomandata, adesso si fanno per via telematica, quindi non c'è traccia, quindi sì, noi dobbiamo fare le segnalazioni e se lo riteniamo, se ci sia un fondamento, un FUS. Presidente. Sì, di fatti volevo collegarmi a quello che diceva la collega, che l'importanza di questo protocollo che avevamo lanciato era proprio questo, cioè la possibilità di collaborare con chi ha più poteri per indagare, è chiaro che non possiamo pensare che noi siamo al fianco dell'imprenditore, dei colleghi possono tenere la contabilità ma altri colleghi non la vedono nemmeno la contabilità perché gli arrivano i documenti, cioè i documenti, i report, i bilanci, quindi è difficile entrare, è chiaro che poi i passaggi del denaro sono quasi tutti tracciati perché ormai il contante viene sempre meno, se poi ci sono attività come diceva il professore dove vendono dei servizi a più basso costo, entra in un'espertise dell'imprenditore cioè tu difficilmente riesci, è chiaro che un segnale che percepisco io commercialista è un segnale che percepisce il notaio che magari vede delle eccessioni di quote, l'altro indizio che vede il direttore della banca se messi a fattore comune è chiaro che può creare e scovare qualcosa che magari da solo non riesci a farlo, è chiaro che noi le nostre procedure le dobbiamo applicare perché siamo anche organismo di autoregolamentazione quindi cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte dobbiamo anche fare educazione presso i nostri colleghi con della formazione specifica dovremmo mandare stiamo ancora aspettando delle indicazioni su un questionario perché a nostra volta poi dovremmo comunicare al nostro Consiglio Nazionale che a sua volta comunicherà al Ministero quali procedure i colleghi stanno applicando a tutela di questa normativa quindi diciamo c'è tutto un percorso anche per educare i colleghi a queste problematiche è chiaro che però abbiamo delle armi spuntate e quindi il fatto di fare fattore comune con altre persone con altri player di queste ci può aiutare a non intasare con le segnalazioni sospette ma che siano segnalazioni circostanziate e che hanno un fondamento su questo assolutamente e volevo chiedere a lei professore sempre nell'ambito della ricerca delle condotte ci sono delle ubicazioni geografiche preferite dove fioriscono diciamo queste attività in modo particolare perché poi lei parlava anche di mimetismo quindi la difficoltà di individuare sono diffuse in tutto il nord sono diffuse in tutto il nord e nelle regioni più ricche in modo particolare quindi Lombardia Veneto Emilia Liguria Piemonte quindi sono diffuse in tutto il nord quindi per esempio nel Veneto non ci sono province che emergono rispetto ad altre nel credo che ogni provincia veneta abbia delle sue particolarità che la rende in qualche modo interessante per motivi un po' diversi poi le indagini specifiche sul Veneto sono al momento poche quindi manca un quadro chiaro che sono in corso non sono giunte a termine in corso non lo so le sentenze che abbiamo visto relative al Veneto le chiusure diciamo sono poche quindi sono relativamente poche mentre le altre regioni tipo Lombardia Emilia Romagna hanno avuto delle operazioni particolarmente importanti che hanno dato un quadro complessivo e anche e anche il Piemonte e la Liguria sono state interessate da operazioni importanti che hanno dato un quadro complessivo di quella che è la presenza criminale sul Veneto di queste operazioni particolarmente massicce e sostanziose ancora non ce ne sono state è vero che c'è stata qualche operazione ma di portata un po' ridotta è anche vero che tutte le altre che molte altre procure che hanno già indagato in altri ambiti hanno trovato comunque connessioni qui in Veneto quindi il quadro che emerge è un quadro su cui tutte le varie province possono essere interessanti per queste organizzazioni criminali per vari motivi chiaramente alcune più per il turismo Belluno e Venezia altre per le attività imprenditoriali edilizia e manifatturiero vuol dire Padova Treviso Verona quindi insomma assolutamente quello che sì prego quindi c'è una diffusione e c'è una presenza ecco pervasiva pervasiva nelle aree più ricche perché dove c'è più ricchezza è più facile nascondersi e mimetizzarsi questo è l'elemento che mi pare importante Bravissimo lei ha detto più volte mimetizzarsi mimetizzarsi da un certo punto di vista tranquillizza sotto i certi profili anche perché non so non mi e se uno è mimetizzato non mi dovrebbe creare grandi problemi dall'altro invece da chi sta dall'altra parte potrebbe anzi allertare molto di più diventa tutto più difficile che tipo di mimetismo viene utilizzato il mimetismo lavora su più piani uno all'apparenza io ho un'azienda o degli imprenditori o dei manager per cui che non si dedicano in modo diretto e continuato a fare azioni violente o traffici illeciti droga armi e quindi c'è questo un elemento che li nasconde rispetto ad alcune dimensioni criminali il secondo è che io e che noi quello che si vede è che queste organizzazioni tendono a fare tutte quelle attività di innovazione anche di prodotto e di processo che portano a assomigliare il più possibile ad un'azienda normale ma che così non è ma che così non è perché alle spalle ha un rapporto con un'organizzazione criminale allora questo è l'elemento che le rende complicate complicate perché si fa di tutto per restituire un'immagine di pulizia da cui si hanno vantaggi perché poi è chiaro che essere mimetizzati cosa consente consente di poter entrare in contatto con un sindaco perché il sindaco non sa che io ho un'azienda che all'apparenza è pulita ma in realtà pulita non lo è quindi con le istituzioni con le istituzioni ma con tutte con la società semplicemente sono l'imprenditore che ha avuto magari in alcuni casi un successo rapido che sta aiutando quella che è la comunità all'apparenza che però una parte di questo suo vantaggio e successo deriva dall'avere intrattenuto rapporti continuativi e costanti con delle organizzazioni criminali allora questo diventa l'elemento che rende complicato che che tranquillizza ma che dovrebbe spaventare di più però se uno ci pensa perché conoscere che c'è un problema mi aiuta ad affrontarlo non conoscerlo o non saper riconoscerlo dovrebbe spaventare ancora di più perché in realtà questo è un problema che potrebbe essere più diffuso di quello che noi immaginiamo in realtà questo lo è assolutamente questo sì con questa riflessione andiamo un attimo in pubblicità poi vorrei appunto tornare perché questo è molto importante e molto sudolo come giustamente dice lei tra poco allora pochi secondi un pochi secondi un pochi secondi Grazie a tutti.